Musica Ma a kappa a tutti ragazzi e benvenuti in questo primissimo video di questa nuovissima speriamo serie di World of Worship Legends Signori ancora lo devo provare quindi ora insieme a voi vedremo come si gioca Allora ragazzi qua ci iniziano già a dare il benvenuto e ci chiedono di prendere una di queste due quale vogliamo prendere a me questa mi ispira tantissimo si prendiamola signori siamo pronti alla battaglia si che scuota lì? allora credo che con A mettiamo ok con A possiamo metterla a velocità però non parte ah ecco mo parte con ah ok ottimo ottimissimo le meccaniche sono semplici però mi lagga un pochino nel frattempo ottimo che gioco bello scompaiono navi ma cose su ma cose ok ok già sta iniziando a sparare ragazzi già ci stiamo provando che mira di merda che tengo lo colpiamo lo colpiamo mannaggia per poco ah si l'ho colpito l'ho colpito diminuiamo un pochino la la velocità e spariamo colpito di nuovo ottimo colpito non l'ho colpito nel modo giusto dai ragazzi che questo lo buttiamo giù forza dai 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 un pochino più in alto ok colpito colpito ci stiamo avvicinando malissimo a questo l'abbiamo affondato è affondato signori è affondato l'abbiamo affondato noi però mi sta andando a fuoco la nave aia questo è un problema ok cerchiamo di non affondarne un altro forza dai che ce la possiamo fare mentre questi qua stanno a vedere di là io li sparo di qua e già li stiamo facendo un bel danno tantissimo dai forza ragazzi forza ce la possiamo fare ce la possiamo fare signori ce la possiamo fare possiamo distruggere e vincere la nostra prima e partita e partita stai battendo in ritirata lui ok quasi distrutto ragazzi quasi distrutto ok è morto non l'ho affondato io ma è morto fino alla prossima nave e un altro affondato ma mi stanno mi stanno colpendo a me ragazzi mi stanno colpendo a me aiuto ah è questo io continuo a spararlo ragazzi ce la possiamo fare ce la possiamo fare dai ragazzi dai ragazzi mi hanno chiamato il davy jones dei poveri per distruggere queste navi scusatemi dai affondiamolo mi ha affondato battaglia finita ragazzi abbiamo vinto vittoria e vai ragazzi prima vittoria abbiamo affondato ben due navi signori due navi stupendo primo in classifica insieme a questi altri miei compagni di battaglia ragazzi la nostra prima partita è andata una meraviglia nel frattempo ci aumentiamo di livello ok dai ragazzi facciamo un'altra potentissima partita ok ragazzi siamo di nuovo in un'altra partita ragazzi non so ragazzi vedremo noi andiamo contro i nemici e gli spacchiamo il culo però sono tutte diciamo della stessa categoria quindi siamo a posto ok nave avvistata mi hanno localizzato pure a me nel frattempo ho trovato un'altra nave spariamo lo riusciamo a colpire lo riusciamo a colpire mi hanno colpito allora a me dai ragazzi questa è una battaglia senza limiti di tempo diciamo è una battaglia all'ultimo sangue nel frattempo mi hanno mandato a fuoco io invece sto mandando a lui a fuoco e ma come faccio ma no cavolo sono andato a schiantarmi ragazzi sono andato a schiantarmi qua mi affondano qua mi affondano signori qua credo che mi affondano a me ok l'hanno affondato l'oro per me però sto un pochino nella cacca ok signori io sono morto adios mannaccia ragazzi non fa niente ritorniamo al porto vabbè ragazzi detto questo spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo episodio ciao ciao un prossimo episodio un prossimo episodio